Un articolo di Ferruccio Sansa su Il Fatto Quotidiano apre un nuovo scandalo sulla diocesi di Albenga Imperia, in particolare sulla figura dell'ex vescovo Mario Oliveri. Sansa pubblica infatti la testimonianza resa in procura da Don Filippo Bardini, ex direttore della Caritas, ascoltato nell'ambito di un'inchiesta sul sacerdote Nello Giraudo accusato di pedofilia. Don Bardini racconta che la loro vescovo Mario Oliveri pagava sistematicamente per avere prestazioni sessuali nel suo studio. Il denaro veniva elargito a uomini maggiorenni che si presentavano al vescovo per ottenere aiuto. Sempre secondo la testimonianza di Don Bardini, il modus operandi di Oliveri era noto anche all'allora vescovo di Savona Dante Lanfranconi e a Monsignor Domenico Calcagno, oggi presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. Don Bardini accusa anche Lanfranconi e Calcagno di aver saputo che Nello Giraudo abusasse di bambini, ma di aver sempre taciuto su tutto, anche se in realtà risulta una lettera di Calcagno a Papa Ratzinger, nella quale il prelato chiedeva che a Giraudo non fossero affidati i compiti che lo mettessero a contatto con bambini. Sulle accuse di Don Bardini era stato aperto un nuovo fascicolo senza indagati, poi chiuso in quanto i fatti sono ormai comunque prescritti. Il vescovo Oliveri è rimasto in carica affiancato da Monsignor Guglielmo Borghetti sino allo scorso mese di settembre, quando Borghetti gli è subentrato a tutti gli effetti. Per il clero del ponente Ligure resta comunque un brutto periodo. Oltre a questi episodi scandalosi si aggiunge infatti l'indagine sulla cooperativa Il Cammino di Sanremo, che vede sotto inchiesta anche il vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo, indagato per associazione per delinquere, appropriazione in debita e malversazione ai danni dello Stato, nell'ambito dell'acquisto e ristrutturazione di un palazzo storico a Taggia.